Buongiorno e benvenuti all'edicola di oggi 22 luglio 2022. Iniziamo la nostra rassegna con la lettura dei nostri quotidiani partendo dal Corriere della Sera che titola la prima pagina Italia al voto il 25 settembre. Draghi si dimette. Sciolte le camere. Mattarella appello ai partiti. Ci sono urgenze. Spero nel contributo di tutti. E' chiaramente una foto che ritrae il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Draghi il Premier che appunto durante le sue dimissioni. Leggiamo di spalla le risposte da dare. Di Aldo Cazzullo scrive E' possibile condurre ad agosto una campagna elettorale seria senza promesse impossibili da mantenere senza tradire la collocazione internazionale dell'Italia? Non solo è possibile è necessario soprattutto se poi si vuole governare davvero. C'è qualcosa di irrazionale in un paese che si priva di un uomo come Mario Draghi. Nello stesso tempo quello che è accaduto l'altro ieri in Senato è perfettamente logico. Il populismo di destra Salvini e di sinistra o presunta tale i 5 Stelle poteva restare imbrigliato nella logica liberale europeista in tempo di crisi e in circostanze eccezionali. Ma già nel gennaio scorso ignorando la possibilità di Draghi a proseguire per 7 anni al Quirinale il suo ruolo di garante dell'ancoraggio europeo e atlantico dell'Italia i populisti avevano di fatto chiuso l'esperienza della solidarietà nazionale. Si è pensato che la guerra in Ucraina con la crisi energetica e l'impennata dei prezzi avrebbe prorogato l'emergenza. Quindi il governo. Passati i primi mesi è accaduto il contrario. È proprio la linea della fermezza verso Putin ad aver mandato in frantumi la maggioranza. A meno che qualcuno non creda seriamente che il governo sia caduto su tassisti e bagnini. E poi leggiamo ancora. L'agenda del governo sarà il nostro programma. L'agenda Draghi, stella popolare del programma di Di Maio per disegnare una nuova era sociale, economica e politica. Brunetta e Carfagna abbandonano Forza Italia, terremoto nel centro-destra. Renato Brunetta ieri ha annunciato che lascia Forza Italia e Mara Carfagna è pronta a formalizzare il suo dio al partito. Ancora Silvio Berlusconi, cacciato da noi, no, il premier ha rifiutato il bis. Le dimissioni di Draghi non erano necessarie. Silvio Berlusconi spiega le ragioni della crisi e racconta che fino a giovedì mattina c'era la possibilità di aprire una discussione sul da farsi. Ma lui è stato irremovibile perché, diciamolo, si era stufato. E poi ancora Dario Franceschini scrive Un'alleanza tra PD e Movimento 5 Stelle ora è impossibile. Lo strappo sulla fiducia al governo Draghi rende impossibile ogni alleanza con i 5 Stelle. Dice al Corriere Dario Franceschini del PD Credo che le prossime elezioni saranno sostanzialmente una sfida tra chi ha difeso Draghi e chi ha buttato tutto a mare. Le Gard alza i tassi scudo anti-Sprid, gli effetti sui mutui. Dopo 11 anni la Banca Centrale Europea BCE ha deciso di innalzare di 50 punti base i tassi di interesse. Ha inoltre approvato il cosiddetto scudo anti-Sprid. Il rialzo del costo del denaro, il primo dal 2011, è superiore ai 25 punti base attesi dal mercato. L'inflazione nell'eurozona resterà fastidiosamente alta, dicono a Francoforte, oltre il 2022, anche a causa del depreciamento del tasso di cambio dell'euro. E ancora lo scenario. Le condizioni della BCE a Roma. Solo il provincialismo di una parte della classe politica italiana, incredibile dopo quasi un quarto di secolo di vita nell'euro, poteva creare un miraggio del genere. L'illusione che quel che succede a Roma resti a Roma. E dopo passiamo alla lettura della Repubblica. In pancia il PD a Dio Conte. Letta cerca un altro campo largo senza i 5 stelle. E Renzi guarda Di Maio e Sala. Calenda mai in una coalizione a Cozzaglia. Anche Brunetta lascia forza Italia. Carfagna in bilico. Berlusconi riposino in pace. La BCE alza i tassi e introduce vincoli allo scudo anti-spread. Voto il 25 settembre. Mattarella ferma la crisi economica e sociale. Bisogna fermare la crisi economica e sociale. Leggiamo insieme. Recuperare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle sarebbe incomprensibile e sbagliato. Enrico Letta non sembra avere dubbi. Anche se nel PD c'è ancora chi spinge per studiare una forma di accordo. E persino tra i grillini non mancano i fautori dell'intesa. Il segretario è per tracciare una linea di confine netta. L'editoriale. Il richiamo della foresta. Nel deserto della politica dominano gli istinti. E alla fine il richiamo della foresta ha trascinato alla crisi i 5 Stelle. La Lega di Salvini e ciò che resta di Forza Italia. Tre partiti in affanno incalzati dal sentimento del declino. Tre leader in crisi. L'analisi. L'oscurantismo della Lega. La Lega era nata, diceva qualcuno, anche per dare sfogo alle istanze di quel ceto produttivo del nord. che si sentiva oppresso da tasse e burocrazia bei tempi, se ne sono mai esistiti. E poi ancora, all'interno, Giorgetti, io, Draghiano, resto un uomo di partito. Lo strapotere spavaldo del Caimano e ancora il saluto commosso del Premier, pure i banchieri usano il cuore. I paletti della Banca Europea che non piacciono ai sovranisti. E poi ancora, oggi la firma Grano Erdogan mette d'accordo russi e ucraini. L'accordo è fatto e verrà firmato oggi al palazzo Dolm Blanc di Istanbul. Oltre 20 milioni di tonnellate di grano ucraino potranno lasciare il porto di Odessa. Passiamo alla stampa. In prima pagina l'Italia al voto. Il 25 settembre il Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Fissata la data delle elezioni, il Governo incarica per l'ordinaria amministrazione. Mattarella ora collaborare nell'interesse di tutti. Il Premier, orgoglioso del lavoro fatto. Letta mai più con i 5 Stelle. Il commento, i peggiori politici di tutti i tempi. Leggiamo, Concita De Gregorio scrive, l'unica cosa su cui riflettere è che lì abbiamo eletti noi. Adesso non vi concentrate per favore sul noi. Non rispondete no, io no, sarete stati voi. È un noi metaforico. È un soggetto collettivo che indica gli elettori. Tutti anche quelli che non sono andati a votare e hanno lasciato che a decidere fossero gli altri. La classe politica più scadente della storia repubblicana, questa comunità di miracolati scappati di casa, questi dilettanti allo sbaraglio che alle 5 del pomeriggio del giorno in cui cade il governo, chiamano mamma al Paese per chiedere consiglio. Si fanno un selfie dal bagno dal Senato. Consultano l'astrologa. Sono stati votati ed eletti dagli italiani. E no, non è disprezzo l'elettorato dire, avere, abbiamo votato la più incredibile leva politica a memoria d'uomo. La peggiore è un'assunzione di responsabilità e un invito a esercitare la memoria. L'analisi, quel populismo da piccoli uomini. Tra le possibili interpretazioni della forte preferenza per la continuazione del governo Draghi, mostrata in diversi sondaggi, quella che preferisco è che l'italiano, buona parte di essi, si siano persuasi che la competenza non è acqua fresca. Sprit, lo scudo della BCE, ci costerà caro l'economia, il nuovo Watervenitex che servirebbe al paese. La diplomazia ha i timori della Casa Bianca. Roma resta atlantista e ancora di spalla il colloquio. Berlusconi Draghi si è cacciato da solo. Su, adesso basta con le sciocchezze. Io stimo Mario Draghi. Tutti si ricordano che lo portai io al vertice della Banca Centrale Europea nel giugno del 2011. Però adesso finiamola con questa storia che siamo stati noi a farlo fuori, a cacciarlo dal governo. E all'interno delle pagine il commento. L'intervento traditi da Silvio ha perso lucidità. E poi il retroscena Giorgetti e Amaro non rineghiamo Mario. Andiamo avanti con la lettura e passiamo ad avvenire. Partiti rimandati a settembre. Sconcerto anche all'estero per la crisi Berlusconi. Il premio ha rifiutato il bis. Forza Italia perde pure Brunetta e forza Carfagna. Letta tradito il paese con Movimento 5 Stelle è finita. Draghi lascia. Mattarella lo ringrazia. Prende atto dell'assenza di una maggioranza. Camere sciolte. Voto il 25 con campagna elettorale estiva. Il presidente è ammareggiato. Richiama i partiti. Tante emergenze. Si pensi agli interessi dell'Italia. Il governo si rimette al lavoro su decreto aiuti e PNRR. L'editoriale è tenere la rotta economica per non farci altro male. Leggiamo. Passato ma non smaltito l'atto di autolesionismo nazionale con cui Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega hanno liquidato il governo Draghi in un frangente delicatissimo della storia d'Italia ed Europa. È già tempo di ragionare su che cosa si può fare in campo economico e che ci separa dalle elezioni. Con lo spirito illustrato ieri dallo stesso Draghi ci sarà tempo per i saluti. Rimettiamoci al lavoro. C'è un'emergenza da governare. Transizione energetica, inflazione e tutela del potere d'acquisto, lavoro e cantieri sono dossier che non possono certo essere abbandonati a se stessi. Anche solo per uno o due mesi. Stando con le mani in mano. Con l'ex presidente della BCE bruciato e alla guida del governo solo per gli affari correnti, l'Italia perde un prezioso garante che rassicurava interlocutori internazionali e operatori finanziari. Che peraltro già si stavano preoccupando per il dopo Draghi e per il rischio di un ritorno di fiamma nazionalpopulista. Occorre partire però da una premessa di tipo psicologico per così dire. Il mondo non finisce in ogni caso con Super Mario e ripetere all'infinito che quanto successo pur grave è un colpo morale all'Italia. Rischia alla lunga di essere almeno attrettanto autolesionistico delle scelte dei partiti della crisi. E soprattutto sta anche alle scelte future di noi elettori creare un quadro politico che non sia sbilenco e inquietante anche per istituzioni sovranazionali e mercati. In fondo lo stesso Draghi disse una volta davanti allo Sprid fortemente salito sotto il suo governo vedete che non sono uno scudo contro qualunque evento. Ciò detto restano le scelte operative a partire a esempio da quelle legate alla transizione meglio conversione energetica che per la loro natura che tocca il bene comune hanno le caratteristiche per essere trasversali accomunando partiti e movimenti anche opposti. C'è da portare avanti lo stesso la diversificazione geografica delle fonti energetiche e da intensificare misure come i decreti necessari a sette mesi dal varo della norma per incentivare lo sviluppo delle tanto attese comunità energetiche sulla scia dell'appello di quasi 150 associazioni e reti associative laiche e cattoliche lanciato proprio sulla pagina prima di avvenire. Spostando la prospettiva all'orizzonte elettorale certo c'è il rischio che nel cambiamento disposto tra questa legge elettorale e nuovi collegi indotti dal taglio a 400 più 200 dei parlamentari nessuno dei due è più fonti elettorali che si presteranno vincerà da solo le elezioni e questo impone ancora più il dovere di chiarezza davanti agli elettori. A esempio sul taglio delle tasse sul lavoro e su quel tipo di salario minimo temi già battuti da molti mesi con poco costrutto è bene che ogni coalizione esponga ora con la massima chiarezza nei dettagli le idee in materia senza limitarsi a generiche enunciazioni poi aggirabili una volta al governo. Magari anche sulla concorrenza per la quale dopo un DDL ora pure stralciato del capitolo taxi ancora una volta avverranno tempi migliori e anche su questo sarà decisivo il giudizio degli elettori fra visioni politiche così contrapposte. Al grano c'è l'accordo Iran e Monfeghin tra scontri e vitime. oggi la firma tra Mosca e Kiev altre bombe e poi ancora tassi su dopo 11 anni ma c'è anche lo scudo rialzo di 0,50% protezione per il debito dei paesi europei. E poi l'inflazione o recessione un dilemma secolare. Ancora ci sono altri temi all'interno delle pagine il cicloturismo rende l'Italia ancora più bella e poi archie un caso di inciviltà che scuote. E dopo avvenire passiamo al sole 24 ore il quotidiano politico economico finanziario normativo voto il 25 settembre lo spread sale a 241 Draghi resta al lavoro su PNRR e inflazione. La crisi tra le priorità del Quirinale e anche interventi per l'Ucraina e emergenza gas. La borsa di Milano cede ancora lo 0,7% in due giorni meno 2,3%. E poi leggiamo la BCE dopo 11 anni alza i tassi dello 0,50% e lancia il nuovo scudo anti-spread. Leggiamo il nuovo strumento, un paracadute TPI discrezionale e illimitato con poche condizionalità per i titoli di Stato e dei paesi a rischio. Andiamo adesso alla stampa locale e leggiamo l'edicola del Sud Emiliano e De Caro uniti da Draghi la crisi e le elezioni, le reazioni alle dimissioni del Presidente del Consiglio. Leggiamo L'hanno fatta gigantesca tutti quanti. Non ha usato mezzi termini il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel commentare quello che è accaduto a Roma, con la sfiducia di fatto del Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il Governatore era stato tra i primi a lanciare l'idea di nuovo fronte politico da costruire intorno alla figura dell'ex numero uno della BCE. Palazzo Sarita, Polo Culturale, c'è il recupero e partono i restauri di riqualificazione dello storico immobile sulla muraglia di Barivecchia. Morti due nonni grave la nipote con l'auto contro il muretto, la bimba di sette anni, in coma farmacologico. E poi ancora il mercato immobiliare e compravendite su del 13% nei prossimi mesi del 2022. Gli interventi al Policlinico, nuove tecniche contro l'obesità. Il su da rischio corruzione, il tesoro nella casa del collezionista, c'è un sequestro e l'intervista a Mario Desiati, il dialetto è ricchezza. Passiamo adesso alla Gazzetta del Mezzogiorno. In primo piano il 25 settembre la data del voto, il colle ai partiti. Ora lavorate sodo, parlano i leader pugliesi, il nostro sondaggio web. Il commento, la prima vittima è proprio il sud. Lino Patrono scrive, mettiamo che ci sia un'inflazione che si divori ogni giorno i soldi degli italiani. Mettiamo che il Covid non ci risparmi neanche nell'estate, meno propizia a ogni virus. Mettiamo che il prossimo inverno dovremmo stare un po' più al freddo e un po' più al buio. Mettiamo che la guerra in Ucraina continui e non ci arriva neanche il grano. Mettiamo che uno stipendio su tre sia sotto i 1000 euro al mese. Mettiamo che anche un terzo dei pensionati non raggiunga i 1000. Mettiamo che abbiamo da noi un lavoro di il 10% in meno di persone rispetto al resto d'Europa. E continua all'interno delle pagine. Stanchi dell'Ucraina, ma è la nostra guerra. 150 giorni dall'invasione di Putin. Poi finalmente scende la curva del Covid. Medico stroncato dalla stanchezza a Manduria. Trani muore sui binari per non saltare la fermata. Tragedia. Un 49enne incastrato nelle porte del treno. Ancora con la stampa locale passiamo al mattino. Italia al voto il 25 settembre. Draghi si dimette. Mattarella sceglie le camere. Ora il contributo di tutti nell'interesse del paese. I dossier aperti del governo dal PNRR alle misure anticrisi. Berlusconi. Il Premier ha rifiutato il bis. Cassetta di birra per le preferenze alle regionali. In chiesta sui clan di Napoli est le intercettazioni. Ci sono le elezioni. Ora devono darci qualcosa. Passiamo alla lettura del messaggero. Italia al voto il 25 settembre. Mattarella monito ai partiti. Camere sciolte. Tutti collaboriamo sulle emergenze. Brunetta lascia forza Italia. Draghi, draghettone, traghettone avanti col PNRR. Sì, al DL aiuti. No alle norme sui taxi. La politica sfiduciata. Gli scenari possibili. Se il Premier è scelto dal popolo. Il Parlamento ha votato contro l'Italia. Le lapidarie parole. Barate le nuove misure anti-inflazione. Vi si è doppia mossa. Tassi su del 0,50%. Ma ci sarà uno scudo contro lo spread. E poi gli effetti decisivi della scelta degli elettori. Verso le urne. Paolo Pombeni scrive più che continuare a speculare sulle responsabilità per la fine davvero poco gloriosa di questa legislatura converrebbe ragionare su come uscire dalla palude in cui siamo finiti. Come è andata è abbastanza chiaro e lo spettacolo di partiti che cercano ciascuno di scaricare sull'altro o addirittura su Draghi la colpa di qualche successo è mortificante. Per dirla con una battuta richiama la storriella del bue che dava del cornuto all'asino. E poi passiamo al quotidiano del sud dell'altra voce d'Italia diretto da Roberto Napoletano. Non è un paese per sovranisti e populisti. Molti italiani sentiranno queste lezioni come quelle del 48 e alleggerà l'ombra di Draghi il nuovo De Gasperi. Leggiamo. Il paese reale questa volta si farà sentire il racconto della catastrofe dei capi partiti del populismo italiano che ha spopolato il movimentalismo della sinistra e di 5 Stelle e ha riunito le anime del centrodestra di governo e dell'opposizione in una destra più marcatamente populista si è trasformato da gran cassa mediatica che inquina il dibattito della pubblica opinione italiana in un danno grave e certo per le famiglie e le imprese italiane interrompendo la stagione d'oro della nostra economia. Quello che deve essere davvero chiaro a tutti è che il percorso di rinascita del paese coincide con la sua ricostruzione nazionale e si muove dentro un solco ben preciso a livello europeo e nazionale e il solco tracciato da Mattarella e da Draghi. La BCE accelera sui tassi più del 0,5% e vara lo scudo anti-spread, il maggior rialzo per inflazione e guerra. Mercati, l'ombra della crisi dei debiti sovrani, le divisioni di Draghi gettano l'economia italiana nella terra incognita di una possibile riedizione della crisi da debiti sovrani. Tocca a noi non far ripetere gli errori della legislatura più pazza del mondo con la prossima tornata elettorale. All'interno delle pagine il commento di Ercole in calza. Fanno festa i nemici di Draghi all'estero, Giuliano Cazzuola scrive Non mi aspettavo, finisse così. Ero convinto che il problema fosse la disponibilità di Draghi di avere un governo sgombrainato. E con il Quotidiano del Sud termina la nostra rassegna. Vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in compagnia dei programmi della nostra rete. Buon proseguimento di giornata. Grazie.